buongiorno steven rido perché è una bellissima giornata bello quello che abbiamo appena scoperto un minuto prima della live giusto fa vedere che non l'ho visto non si vede adesso spero che sia la protezione perché ormai questo telefono mi ha fatto capire che devo cambiarlo te devi prenderlo no lo devi fare qui si vede un pochettino ecco si è tutto crepato lo schermo non mi va più la fotocamera interna mi fa più la batteria va bene ora di cambiarlo non dobbiamo prenderlo e buttarlo contro il muro all'indietro così non voglio rispondere ciao lucio sono anch'io finalmente in una delle tue live allora io non l'avrei mai detto salutiamo michele zampieri intanto che ci saluta ciao michele io non vedo a eccolo qua adesso è perché è una cosa nuova per me e noi possiamo risponderle anche a loro giusto un'altra cosa ma noi possiamo dire cioè quali sono i limiti qua non si possono dire sono solo nelle nostre teste se scappa una parolaccia non è un problema no no i veneti come i toscani è un intercalare no no non cadiamo in questi luoghi comuni per favore va bene allora proprio ci voleva poi un com'è lì lucio che è che ho tirato fuori un un reperto bellico secondo me un qualcosa di due anni fa ormai gli occhiali che ho usato su un set tuo che li chiamo gli occhiali da cavallo perché intanto questo queste cose qua e in caso di crisi ciao fabrizio ciao marco ciao vittorio una cosa fantastica che io penso di essere stato così per tutto il set e te non mi mandavi a quel paese perché lucio fa il serio lucio fa il serio ho detto almeno quando sto facendo la mia parte lasciami fare il cretino me li ricordo me li ricordo li hai usati anche nel video di di timotei e dove eravamo al all'arley di verona arley davinson di verona si che collabora spesso con timotei e una giornata direi indimenticabile sotto tutti tutti i punti di vista per pietro soprattutto peccato che non c'è adesso in live pietro dai racconta da te che sei più bravo di me no niente breve brevemente brevemente siamo andati a all'arley davison e ci siamo dimenticati un obiettivo mi sembra della macchina da un obiettivo dietro per prenderlo un'ora e mezza non era tornato e allora l'hai chiamato e fa no aspetta perché c'è una macchina sul carattrezzo sì perché il signorino si era dimenticato di di pagare la figurazione perché giustamente aspetta guarda adesso lo sento subito pietro e quindi non so come abbiamo fatto comunque a finirla in un giorno i miracoli che fa il cinema indipendente che facciamo sempre assieme dai quindi ma perché siamo nati e non perché io sia talentoso ci mancherebbe altro proprio perché fortuna quello c'è tanto culo quello lì come quando ci siamo incontrati non tantissimo tempo fa se uno fa due conti no che mi hai detto vieni su questo set era hai detto sì è quello di bounty hunter bounty hunter vabbè ho detto sai che io non ho fatto foto di cinema cosa ho detto non non mai neanche chiesto chi sono come fotografo te non ti preoccupare perché se io ti ho detto vieni io so già tutto esatto eh sì diciamo così e io ti ringrazio sta arrivando anche pietro se ci gira bene ragazzi facciamo entrare anche pietro ciao walter ciao gian walter mancate tantissimo voi di dosena adesso arriviamo presto bene o male falter non lo deve da un anno e mezzo cavolo ci manca il mirasole soprattutto anche la pizza mirasole e sì ci manca tanto d'ossena dai che torniamo presto se tutto va bene ma venite su con me tanto io posso girare sì ok va bene diciamo il discorso e poi abbiamo iniziato questa avventurona che non ci sia più separati anche perché dopo c'è stato the carpenter proprio la docena esatto c'è stato il carpenter poi c'è stato il video di timothy sia il primo che il secondo uno potremmo anche vederlo dopo maschera quello dove ci sei tu se vuoi la condivisione lo schermo se hanno voglia anche i nostri ospiti di vederlo sono andato a voler vedere da soli in un altro momento aspetta ho messo in paura cioè fabrizio guarda dopo avermi detto questa cosa qua ti faccio entrare pietro in diretta pietro ti mando un link puoi entrare anche tu se ovviamente se ovviamente lucio vuole se lucio vuole perché è lui che comanda quando comando io però devo spiegare bene come è andato il discorso della macchina vai 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 sì 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 allora facciamo così andiamo avanti con i nostri discorsi e poi facciamo entrare anche quando vedo che pietro è collegato lo faccio prendo il link tutto in diretta e poi niente arrivando al 2020 no torno su docena un secondo vai 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 10 giorni anche lì dove il tempo non esisteva più secondo me perché eravamo entrati talmente in un vortice sì un altro mondo ragazzi sembra di aver vissuto una vita fa anzi due o tre vite fa una roba del genere docena l'avventura che abbiamo vissuto là è stato è stato qualcosa di incredibile siamo stati trattati tutti alla grande da walter e tutta la squadra dico walter in primis perché il primo insieme a fabio che il sindaco di docena che ha sempre creduto in noi ma ci sarebbero tantissimi cioè ci dovrebbe veramente citare ogni singolo cittadino di docena anche tutte le persone di docena anche solo a a parlarci cioè ci parlavamo con tutti per dieci giorni lì a me sembra stati tipo due mesi ciao ma di essere partiti dalla guerra quando siamo tornati siamo tornati diversi proprio ciao luca ciao luca allora attenzione attenzione no signore lo santos della vega ditemi solo vi risentite perché ciò con le casse ti sentiamo ti sentiamo cucciolo ma voi voi vi risentite noi ci sentiamo sì noi stiamo bene se vi risentite se vi risentite dalle casse perché ho le casse non ho le cuffie quindi però da parlare provate a parlare ci hai sentito dai ci siamo com'è lucio tutto bene è arrivato dal lavoro io quindi guarda devi spiegare per filo e per segno che cosa è successo da dall'arley davison della tua macchina perché lo vogliono sapere tutti c'è l'ha scritto aspetta quando a di maschera ah beh perché c'è dato solo un ottimo no non sono più arrivato semplicemente semplicemente ragazzi se andate in giro con la macchina e non pagate l'assicurazione quando vi fermano vi sequestrano il veicolo ecco diciamo quindi e non gli interessa la scusante del prenderanno che era reale anzi ma io gli ho detto guarda dove sta andando guarda io sto andando a girare un video che mi sa che lei non ci va mi hanno detto proprio mi sa che lei non ci arriva quindi hai trovato quello simpatico eh sì ma lì sono molto simpatici guarda anche quando sono andato dopo a pagare la multa e tutto quanto sono stati molto simpatici tipo dovevo andare lì sono andato lì il giorno dopo perché il giorno dopo avevo già tutto fatto praticamente che avevo tutto pronto sono andato là con mi aveva mandato l'assicuratore mi ha mandato la foto del sul telefono del documento dell'assicurazione con la data aggiornata col fatto che era già pagato tutto quanto loro no loro la foto non gli andava bene volevano il pdf volevano o il documento stampato e quindi io mi sono rimasto in sala d'attesa d'ora ad aspettare che mi mandasse il pdf il mio assicuratore che non mi rispondeva così ad aspettare e dopo fortunatamente ero lì che aspettavo viene fuori il tipo che mi ha fermato il giorno prima e dice e dice cosa stanno facendo questo ragazzo qua diceva è lì che aspetta perché non ha il pdf ma ha fatto vedere ti ha fatto vedere la foto gli dice il tipo e dice sì sì ma ha fatto vedere la foto di tutto ma non ho il documento originale e quello dei cazzi e mazzi e alla fine diceva sì dai vedi che vada bene farlo andare via anche perché gli ho smenato gli ho smenato un po' di soldini anche diciamo non è che gli ho scelto giù due regali esatto esatto vai col video che dopo parliamo di che cosa hai fatto in questo anno di fermo dove tutti siamo stati dove tutti gli altri sono rimasti fermi ok dai non proprio tutti diciamo che comunque come però dato che c'è anche dietro possiamo parlare anche di tanti bei progetti che abbiamo in mente con l'accuso alcuni che non siamo riusciti a portare a termine a causa di quello che sappiamo già e altri che invece stanno prendendo nuove forme dato che c'è gente qua presente che farà parte di quei progetti detto ciò devo condividere io lo schermo lucio e poi dopo lo toglierai è un dramma perché non so cosa accadrà però va bene ok aspetta proviamo diamo condivido effetti speciali ok dovrei condivisione aspetta ok ci siamo diamo dovremmo mettere il video quello perché adesso vedo vedono i tre eccomi ah ok ok perfetto quando volete lo metto di qua così mi guardo siamo pronti guardiamo e dopo commentiamo dai facciamo una premessa il video di timoti cavichini maschera che dato che abbiamo parlato delle disgrazie di pietro di quel di quel giorno lì adesso ci guardiamo il video a questo punto ai 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 anche il nostro grande video vediamo se lo riconoscete illuminati un po la faccia steven che nella batcaverna guardatevi il video parto ciao 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 faccio bel butino la chiave inglese ma finish aspetta che vediamo prima che si parta altro madonna che è successo un mondo infinito chi c'è? Steven Senner a Batcaverna ma chissà chi è che fa questo commento qua ciao Andrea ciao togli tu la condivisione Steven se no ok adesso così riesco ecco c'è Semeraino nel video e chi è Semeraino dei tre? io sono Semeraino dopo dopo un periodo vabbè sono dislessico volevo fare una battuta il tempo comico l'ho perso va bene dai passiamo ad altro raccontami di questo 2020 appena passato vabbè inizio io Pietro no sì dai parti te ma diciamo che partiamo dal presupposto che nel 2019 vado un attimo indietro abbiamo girato il nostro primo film primo vero film quindi intendo un film che avesse la produzione delle collaborazioni grandi quelli di prima era cinema indipendente che va sempre bene però questo era un cinema indipendente un gradino un attimino più in alto ok e e cavolo vedevamo veramente un futuro prosperoso cioè iniziavamo a essere chiamati io è da una decina d'anni che ho deciso di iniziare questa chiamiamola carriera da regista per quanto io non mi sento ancora un regista ma mi sento una persona che vuole diventare un regista che è diverso secondo me e niente il 2019 è stato un grande anno abbiamo girato The Carpenter abbiamo portato avanti anche la collaborazione con te Lucio che ormai è diventata oltre che un lavoro assieme anche una grande amicizia e alla fine sei anche tu un membro insieme a noi anche della Closio quindi questo credo che possiamo dirlo a noi fa sempre piacere ringrazio per la fiducia e per anche per non dico i nomi ma i nomi positivi che mi hai tirato quando hai visto le foto di The Carpenter che hai detto io come le seleziono tutte queste foto la fiducia che dai te soprattutto a me perché ce ne vuole tante per dare la fiducia a uno come me ma comunque e dopo abbiamo girato abbiamo girato altri lavori che comunque ci hanno portato grandi soddisfazioni i video di Timothy che comunque noi collaboravamo già con Timothy dal 2015 e ci piace sempre ricordare la collaborazione con lui perché è uno di quelle persone con cui veramente ci troviamo tanto in affinità litighiamo anche tanto perché ci piace sbatterci la testa a vicenda però al contempo è un rapporto di di amore reciproco perché comunque diamo la possibilità entrambi di sperimentare lui con la sua musica e noi con la nostra visione potremmo dire cinematografica e abbiamo fatto la collaborazione con è il 2019 Pietro abbiamo fatto la collaborazione anche con McDonald's abbiamo girato il cortometraggio Family giusto? 2019 abbiamo fatto insieme a te Lucio anche il cortometraggio Growing Up con la squadra in carrozzina basket di Verona esatto grazie anche al supporto di Michele Ziloc abbiamo iniziato un sacco di cose quindi il 2020 si era aperto con uno spiraglio di positività incredibile finalmente quando noi avevamo preso la nostra unica strada perché noi comunque arriviamo da un lavoro normale da dipendenti con cui ci siamo sempre autoprodotti i nostri lavori e ci siamo mantenuti i nostri studi a livello cinematografico eccetera abbiamo detto finalmente possiamo fare solo questo di lavoro e il giorno è arrivato il coronavirus proprio la porta ehi ciao e io bene è ovvio che all'inizio c'è stato un grande sconforto non solo a livello ovviamente di quello che erano i nostri sogni ma anche di tutto quello che era la situazione quello che stava passando le persone noi poi siamo molto legati al paese di Dossena che è in provincia di Bergamo è una delle città credo che è stata tra le più colpite in Lombardia per questa situazione vabbè poi in realtà tutti siamo stati tanto colpiti però dico lì c'è stata proprio una grande concentrazione e quindi anche a livello affettivo è stato un duro colpo per noi però niente se all'inizio ci siamo un po' demoralizzati almeno sottoscritto poi abbiamo voluto un attimo cercare di riprendere in mano la situazione e siamo riusciti nel 2020 per chiudere un po' il discorso a girare un paio d'opera che comunque stanno portando un buon riscontro e che ci hanno dato modo almeno un po' di esprimerci una di queste routine che ci sei sempre anche tu Lucio perché ormai ti vogliamo anche davanti allo schermo e non solo dietro la telecamera a fare foto oltre a correre sono saltato giù da un furgone facciamo sempre a correre o saltare a te Lucio mi raccomando la prossima volta capriori la prossima volta tutte cose che io avevo dimenticato perché le mie gambe non me lo permettono pensavo non me lo permettessero poi nel 2020 ho pensato di scassarmi ancora di più però sei ritornato comunque in piedi possiamo dire sono ritornato in piedi e adesso presto mollerò queste due mezze amiche perché se fossero amiche mi terrebbero sempre compagnie invece sono mezze amiche perché le voglio lasciare andare via e ripartiremo come prima io ne ero sicuro e niente dopo per quanto riguarda altri progetti avevamo iniziato a mettere giù le basi per dei progetti noi come Clojure Production quindi come produzione indipendente per la realizzazione di altre opere però diretti da altri registi quindi non ci sarei stato io in cabina di regia ma io sarei stato in cabina produttiva perché perché avendo la possibilità di avere determinate collaborazioni con alcuni brand volevamo dare questa possibilità anche a quei registi indipendenti che sono ancora in una fase per quanto riescano a dimostrare al meglio anche con i loro mezzi quello che sanno fare dove non avevano diciamo questi aiuti questi supporti e secondo noi per darsi una mano anche nel cine indipendente dobbiamo iniziare a darcela anche tra di noi quindi essere un attimo più collaborativi e non chiudersi sempre nel proprio piccolo giardinetto perché secondo me così non si arriva da nessuna parte e intanto io sto bruciando non so cosa sta succedendo ma e niente abbiamo instaurato queste collaborazioni questi due registi con cui abbiamo iniziato sono stati Fabrizio e la Monica vi consiglio di andarlo a cercare ragazzi trovate alcune sue opere anche su Amazon Prime Video è secondo me un regista veramente talentuoso a me personalmente piace davvero tanto non sono un grande fan di tanti registi nelle cine indipendente non sono neanche fan di me stesso quindi figuriamoci di altri però lui è un altro regista che è Nicola Peg che è un altro con cui vorremmo stiamo portando avanti un progetto non dico titolo non dico altro perché finora a causa del coronavirus non siamo riusciti a fare niente quindi non vorrei portare altrettanta sfortuna quindi al momento teniamo le cose così però ecco sono registi che noi stiamo cercando di produrli e potremmo farlo se non ci fosse ovviamente questa emergenza nazionale delle opere dove loro sono registi si possono esprimere possono dire la loro possono fare quello che vogliono e noi gli diamo i mezzi è molto sintetizzato perché? perché ovviamente sappiamo che possono portare qualità e quindi non è che ci mettiamo a dettare leggi su come devono lavorare gli diamo semplicemente mezzi ovviamente nei limiti di quello che noi possiamo fare e vedremo vedremo noi siamo pronti e appena ci dicono noi partiamo c'è un altro regista che a me interesserebbe tanto lo dico perché lo accendo soltanto che con cui ci piacerebbe lavorare e poter fare la stessa identica cosa che faremo con gli altri due registi che è Roberto Albanesi di cui consiglio di andare a cercare Dante va alla guerra lo trovate su Amazon se non volete comprare per forza un DVD se volete supportarlo e prendere il DVD ben venga perché ne varrà veramente la pena ecco questo è quello che posso dirvi io col mio dono della sintesi ciao Giorgio scusate ho visto adesso andate andate vai tu Pietro se vuoi aggiungere qualcosa che ho parlato beh cosa possiamo aggiungere il fatto che comunque nonostante anche la situazione del covid eccetera eccetera eravamo anche pronti per iniziare nonostante tutto cioè ci siamo buttati avanti perché comunque in ogni modo vogliamo produrre vogliamo fare vogliamo non ci piace questa situazione di stare chiusi in casa eccetera eccetera l'abbiamo provata in tutti i modi però diciamo che alla fine ci ha fermato anche a noi questa situazione però detto questo non non ci ha proprio fermati come si può dire siamo sempre in movimento continuiamo a fare a esplorare anche anche da casa diciamo ci diamo da fare ecco non è che non facciamo niente però naturalmente basta gatto porca puttana non diciamo le parolacce in questa parte guarda vuoi creare anche un porco vabbè sì ha ragione Pietro comunque sul fatto che noi non ci siamo mai fermati mai fermeremo perché comunque sì è solo un fatto di lavorare far lavoro ma è proprio un fatto di poterci esprimere è quella la cosa essenziale per noi credo di poter parlare a nome anche degli altri registi che ho o di tanti altri che adesso sono connessi qua Giorgio Andrea di Gian di Michele sono tutti artisti che comunque in primis hanno bisogno soprattutto dopo un anno come questo di poter esprimere qualcosa è proprio cibo per l'anima capisci io ho voluto anche voi come tutti gli altri per mantenere questa unione sebbene a distanza per parlare perché bisogna stare vicini chiacchierare non stare a guardare sempre la televisione in questo momento perché c'è da segarsi le vene per la lunga è meglio fare una chiacchierata di una mezz'oretta tra amici con altri amici che ti ascoltano e produrre produrre sempre almeno idee e cose perché quando quando ci libereranno poi dopo siamo già pronti tutti dappertutto liberano via 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 corri fuori di casa via via tutti a correre in giro io con le foto io sono qua che non sto impazzendo perché so che adesso è anche inverno esce già buio quindi niente però sono sul piede di guerra io tra 15-20 giorni prendo e vado in giro può darsi che mi vedete sul TG1 e mi dovrete portare le aranze le aranze esatto no in realtà stavo dicendo no mi sono perso cavolo parlando delle aranze da portare al nostro caro amico Lucio no ti inseguono con l'elicottero Lucio ok e vedi Lucio che cammina con l'elicottero dall'alto e tu gli fai con l'elicottero in seguito beh comunque quello che diceva prima Pietro è vero cioè noi non ci siamo mai fermati ad esempio oggi è uscito anche un lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con l'istituto di Villa Franca la scuola Enrico Medi è un'opera che è stata anche finanziata dal MIBAC per poter parlare di legalità e sport cioè collegare queste due cose assieme quindi questi ragazzi cosa hanno fatto ovviamente io non potevo andargli a filmare per fare delle riprese normali allora mi sono collegato insieme all'istituto scolastico e streaming e dato che abbiamo la possibilità che questo piccolo mezzo come ci insegnano anche tante persone come uno di quelli che seguo principalmente che è Malloru ti fa capire che veramente oggigiorno anche con un iPhone puoi fare delle cose incredibili e in questo caso ci ha davvero salvato perché ciao Maurizio per spiegare ai ragazzi ragazzi siete giovani sapete usare quel mezzo anche meglio di noi ok per quanto non è che noi non lo sappiamo usare però nel senso loro hanno ancora più dimestichezza di noi e sono riusciti a fare delle riprese incredibili se andate a controllare è uscito oggi lo trovate nei miei social le riprese che non sono ovviamente riprese quelle dei reportage che sono state date liberamente dalle entite divisive che hanno voluto donarcele tutto il resto è stato girato dai ragazzi interamente io dopo ho passato a fare la fase di editing però per farti capire è ovvio che non dobbiamo passare domani a fare opere solo di questo genere però se si vuole in qualche maniera si può sempre esprimere un messaggio esatto non dipende tanto dal mezzo ma da quello che si vuole esprimere secondo me dopo che sia un cellulare una fotocamera o una telecamera da 60.000 euro è un altro discorso però è sempre il messaggio che sta dietro la cosa più importante che vogliamo lanciare noi esatto niente mi accennavi Lucio ieri se non sbaglio che me l'hai ricordato tu del lavoro che abbiamo fatto durante la quarantena io me l'ero completamente scordato ti dico la verità Cuore tricolore che è una canzone scritta da Dimitri Ferrari da cui noi dopo abbiamo creato sopra un video abbiamo fatto una collaborazione con lui lui ha creato proprio da zero questa canzone ci ha dato l'onore di poterne fare il video sopra abbiamo preso un po' di video da tutte le persone che hanno voluto partecipare da casa dove risuonavano o ricantavano lo stesso brano in vari punti e dopo abbiamo fatto un collage è piaciuto tanto è passato anche su svariatenti televisive ovviamente il nostro fine era quello di lanciare sempre un messaggio far capire che dobbiamo rimanere uniti soprattutto in quel momento là mi sa che qua l'andazzo non è che si distanzia molto da quel momento là io ti dico la verità è un mio parere spassionatissimo perché dopo non voglio creare discussioni dopo diranno anche quelli presenti che ci stanno guardando cosa ne pensano io pensavo che la gente uscisse meglio da questa quarantena mi uscisse gente migliore io ero veramente speranzoso che il genere umano si svegliasse un po' fuori e con svegliarsi fuori i renegazionisti complottisti semplicemente nei confronti degli altri volersi bene anche darsi un buongiorno una mattina un salve tra anche sconosciuti per strada giusto per sentirsi uniti invece io vedo peggio di prima vedo quelli sì che si sono svegliati ma è sempre la minoranza però ti ripeto forse sono io le pippe mentali non è ancora finita ah sì no è ancora lungo ovviamente un anno e mezzo poi dopo la gente può solo migliorare sì hai ragione Giorgio hai detto sin dal primo momento che sarebbero usciti tutti peggio tronzo io che non ti ho ascoltato classico e poi so anche che nei momenti di calo te sei sempre lì al computer che non pensi minimamente né alle foto né al cinema ma te la giochi te la suoni ma cosa intendi il GDR che hai ricominciato a fare Pietro mi prende sempre in giro no diciamo spieghiamola bene io quando ero ragazzino giocavo a questo GDR online praticamente cinque anni fa no? sì infatti ancora sei un ragazzino eh non è che sì 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 infatti infatti sì sì dicevo l'altro ieri giocavo a questo gioco ho iniziato a giocare a questo gioco che è un GDR online non so qual è il significato giusto di spiegarlo vi dico solo che è un po' come un Dungeons and Dragons però ho fatto perché io sono un nerd ragazzi dovete saperlo sono un nerd ne vado fiero è un gioco online in questo mondo fantasy dove tu scrivi ti crei un personaggio scrivi un'azione e oh ragazzi io quando ero ragazzino quando ho iniziato a scrivere le prime sceneggiature ho iniziato a scriverle grazie a questa piattaforma qua perché per poter giocare al meglio se no venivi bannato dovevi saper scrivere bene in italiano o comunque saper scrivere una frase una descrizione di qualcosa io ho imparato a scrivere da lì non ho imparato a scuola io ho imparato lì e l'anno scorso un mio amico mi ha detto ah ma sai io sto giocando a sto gioco ho fatto ma sai che ci giocavo una volta e ora ho incominciato a giocarci adesso ci gioco abitualmente ogni giorno vabbè al massimo rimango stazionato lì si chiama Extreme Lot io per chi piace questo genere di gioco non c'entra un piatto però va bene nel senso è un piatto di ruolo descrittivo dalla fine perché comunque non è che muovi un personaggio devi scrivere perché si dica perché io dopo non li so i termini precisi però davvero per uno anche giovane che vuole imparare a scrivere è lì sei costretto a imparare sì sì com'è che si dice aspetta che che hai detto che non ho capito gioco di ruolo cioè aiming aiming cosa che dici un GDR comunque Andrea ha detto una cosa molto bella che mi piacerebbe riportare se posso Lucio la leggo perché non ha voglia di leggere la chat in realtà molti si sono rivelati per quello che sono nel bene e nel male mentre si alzavano le mascherine se ne abbassavano molte altre più pesanti e fatalità prima abbiamo visto il video maschera che noi l'abbiamo voluta dire in modo scherzoso però se si ascolta bene il testo di Timothy c'è questo discorso della maschera diciamo che nelle situazioni peggiori ok escono anche le persone peggiori o migliori io personalmente con le persone almeno che mi stanno a fianco credo di aver cercato di aver tirato fuori il meglio di me in una situazione così non si può dire questo di tutti però vabbè non sta a me a giudicare però dico questa secondo me era una bella frase da leggere perché è un po' assunto di tutto quello che abbiamo detto noi in un quarto d'ora esatto praticamente che poi effettivamente Timothy è stato lungimirante in una vera incredibile c'è proprio la canzone maschera e dopo neanche tre quattro mesi tutti con la mascherina guardate tutti con la maschera chi con quella trasparente chi con quella grande quella piccola quella larga quella colorata per tutti no vai Lucio scusami quelli che hanno tutti il sorriso davanti in realtà sotto sono incazzati duri con la mascherina al lavoro soprattutto così ci faccio le lingue ai clienti vero è vero e pensa che io e Pietro un anno prima stavamo mettendo giù il soggetto da proporre che volevamo proprio proporlo Fatalità al Mibac con cui abbiamo collaborato involontariamente perché ti dico la verità non lo sapevamo perché noi in primis quest'anno ci siamo messi il focus di dire facciamo un progetto però sempre l'abbiamo sempre avuto però ancora di più adesso di voler esprimere qualcosa perché secondo me siamo veramente in un'epoca in cui in un momento in cui c'è veramente bisogno di dare dei messaggi quindi ovvio si spera che ci sia anche una gratifica a livello economico perché ci devi vivere del lavoro non stiamo qua a raccontare le favole però sempre cercando di dare qualcosa un contributo che potremmo rivedere anche tra 20 anni ma dire sono scontento di aver fatto questa cosa qua e stavamo scrivendo questa storia vabbè adesso non sto qua a entrare nei dettagli che dopo non ce la rubano che vabbè si chiamava Blackstone ne è uscito anche un trailer perché siamo riusciti a girare un piccolo spot che però alla fine non siamo riusciti a concretizzarlo a livello di post produzione speriamo che esca quest'anno che anticipava quello che è successo quest'anno però ce l'abbiamo scritto innocentemente allora da quel momento lì abbiamo quasi paura di scrivere qualcosa e tu Pietro sta no ma sai io ho un'idea che no no Pietro lascia perdere lascia perdere cancellala dalla tua testa perché non voglio neanche saperla che esplode arriva un asteroide distrugge fa spacca distrugge no 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 facciamo niente no 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 niente mamma mia esatto bisogna dire attimo di riscrivere di parlare di un mondo sano e senza covid di quello bisogna fare esatto esatto Giorgio ragazzi sta girando un film che credo però che più precisamente sarà un mediometraggio correggimi se sbaglio Giorgio dove noi stiamo nella nostra piccola parte collaborando grazie a Paolo De Carli che è un compositore scusate artisana eccola qua no questo era il tofu di oggi ah sono vegano vedi che fa male il tofu no fanculo ascoltato un vegano per 40 minuti arrivederci grazie basta con Pietro che si mangia intanto un hamburger buono comunque infatti no vegano sì 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 stiamo collaborando anche noi nel nostro piccolo grazie a Paolo che sta facendo con le soundtrack di questo mediometraggio credo ciao Fabrizio grazie 20 minuti di corto ecco Giorgio mi ha già corretto che si chiama Red sarà un bel corto d'azione che si spera possa divenire qualcosa di molto più grande io ho visto il teaser l'ho anche condiviso è interessante vi consiglio di andarlo a cercare ecco ci tengo in luce scusami se parlo un po' meno di me ma ci tengo sempre a parlare anche degli altri forse per due motivi o sono uno stronzo oppure perché ti ripeto c'è bisogno action drama ecco e c'è bisogno secondo me di supportarci in questo momento ma guarda la gente c'è collegata scusami io sono curioso perché io non vedo io vedo continuamente gente che scrive qua dice un numero che è più o meno fasullo perché non tutti quelli che sono collegati su facebook risultano qua quindi le visualizzazioni ce le hai dopo circa un giorno sono riuscito ad arrivare qua quindi non so bene se sono riuscito a collegarmi correttamente però ti dico che questa diretta è superiore di tre o quattro volte rispetto alla media delle altre dirette ma perché c'è Pietro infatti mi ricordo Pietro dimmi Lucio cos'altro vuoi che parliamo perché io parlerò concludiamo concludiamo con il discorso della closio dai vabbè parto sempre io no no parto io sto giro basta no vabbè metti qualcuno fai entrare qualcuno in diretta te lo spiego io cosa è la closio allora lo spiego io la closio ma va di là chi lo vedo chi c'è no vabbè dai a parte gli scherzi vabbè intanto partiamo dal presupposto che la closio nasce il nome closio in ricordo di Claudia Santoriello che è stato oltre che un grande artista va bene Andrea non paolo di nome oltre che un grande artista è stato veramente come un fratello per me nel vero senso della parola e sfortunatamente Claudio è venuto a mancare nel 2013 per un brutto male e quindi dato che potremmo dire il suo viaggio con noi è dovuto terminare così presto abbiamo deciso di portarlo comunque con noi quello che spero di poter dire che erano un po' anche i suoi ideali artistici con il nome lo suo nome dedicato alla nostra fase di produzione che è appunto closio che sarebbe Claudio in portoghese perché lui era di origine in portoghese era brasiliano e e quindi niente lo suo nasce da un amore nei confronti di un artista che aveva ancora tanto da dare e che fino all'ultimo secondo l'ultimo istante non ha mai smesso di sorridere di dare il suo contributo all'arte come a tutti gli altri anche solo con un gesto e un sorriso questo è da cosa nasce la closio non ci credo neanche se lo vedo adesso mi sento più tranquillo comunque mi sentivo in soggezione con così tanti dico vabbè almeno su 14.000 qualcuno starò simpatico è difficile è difficile vabbè dopo che riguarda cos'è la closio io lascerei sinceramente parlare Pietro dopo te perché nel senso io sono un disco rotto ormai la closio è una cosa che è nata posso dire in primis da me dal mio cuore ma che dopo ha preso dentro e hanno dato e danno ancora tantissimo queste persone oggigiorno persone come Pietro Anna Ruzzoni te ma tutti in realtà quelli che hanno fatto parte della closio che ne fanno ancora parte tutti danno il loro contributo quindi lascio a voi piuttosto dire cos'è la closio vabbè cos'è la closio la closio è diciamo è un insieme di persone chiamiamola famiglia un gruppo come volete chiamarlo voi nel senso che hanno questo questo obiettivo più che obiettivo hanno questo piacere cioè il fatto che ci sono persone che stanno bene insieme ragazzi secondo me è quello il fatto più che un lavoro qualcosa cioè è un gruppo che che funziona questo volevo sentire perché io personalmente scusa Pietro ti interrompo io non ho mai conosciuto Claudio ne ho sempre sentito solo parlare non anch'io non ho mai conosciuto però il l'armonia e il quello che c'è quando lavoriamo assieme perché di lavoro si tratta quando si è proprio concentrati no a fare un prodotto è una cosa che va al di là di tutto e quindi cioè siamo un tutt'uno siamo non sono uno due tre cinque identità dieci identità che vanno avanti ma è un'unica come un insieme una sfera che va avanti tutto così non lo so io ho quest'idea qua alla fine è quello che ognuno diciamo ha una visione particolare ma alla fine quello che siamo è un gruppo perché siamo tutti quanti insieme come dici te Lucio la Claudio non è una persona sola è un insieme è un gruppo che stiamo ben insieme lavoriamo ben insieme alla fine si dice ci divertiamo anche perché alla fine divertiti se lavori divertendoti alla fine non è più neanche quasi un lavoro se ti diverti lo senti come stare insieme a delle persone con cui ti trovi bene è più di così c'è nel senso cosa vuoi è più della vita un'unica senza diciamo che ne abbiamo passate talmente tanti in questi anni che potremmo scriverci un sacco di libri ed è il bello del cinema indipendente quindi non è che siamo del cinema indipendente perché credo che se potessero parlare altri qua registi connessi del cinema indipendente ne avrebbero anche loro da raccontare un sacco una proposta se ovviamente c'è ancora tempo a disposizione dici tu ma se lasciamo fare qualche domanda a qualcuno di loro dici che non si può fare dato che a quanto pare c'è un po' di gente chi vuole perché dopo probabilmente può fare domande io le condivido qui sul dai ragazzi fate domande adesso non vado a mangiare il tofu allora fatene tante e tu smetti di uccidere insetti che non ti affanno niente no se mi danno fastidio dai Giorgio devi andare via a fare una domanda una domanda da parte di Giorgio voglio sentire io adesso perché se no non facciamo più niente esatto qua in realtà le colonne sonali le facciamo ancora e comunque una cosa che mi manca in sto periodo è il risotto al tasto a sal ne parlavo l'altra sera e l'ha mangiato l'ha fatto la ogni una settimana fa e l'ha fatto il nostro vicino l'altro giorno io l'ho mangiato vegano ma io volevo far volevo far bestemmiare Pietro esatto esatto proprio risotto al tasto a sal vegano non è un risotto al sal semplicemente è un risotto vegano è un risotto il tofu mamma mia che bontà guarda ho morito di pane sentendo parlare di risotto e tocco comunque tranquilli se no noi andiamo a mangiare sono tutti timidi dai se scrivono gli rispondiamo gli risponderemo poi sui messaggi sotto la diretta ah certo c'è una domanda è arrivato Marco ecco lo eh adesso è arrivato allora ecco qua ciao Zava ciao Zava ciao Zava Marco ciao Marco hai un programma di fare documentari di vario tipo soltanto film con una trama dietro ma allora dipende dipende sempre da quello che c'è da comunicare se c'è un buon documentario come quello che abbiamo fatto per i ragazzi dell'Olympic Basket siamo ben propensi se c'è qualcosa di davvero interessante di cui poter parlare se no noi principalmente stiamo cercando di rimanere nel genere cinematografico che comunque proprio anche quello del basket non era proprio un documentario classico era un documentario un po' romanzato con messaggi molto decisi vero esatto molto guarda The Carpenter in teoria per inizio febbraio sarà finita la versione definitiva che sarà versione definitiva tra virgolette perché noi dopo vorremmo organizzare anche in via telematica perché credo che personalmente non si potrà fare delle piccole preview per un pubblico ridotto per sapere un po' il parere di quello che ne pensano una cosa che viene utilizzata tanto anche in America quindi credo che un po' tutti voi saprete già di cosa sto parlando e se va bene bene se no se ci saranno dei buoni inquisiti e delle buone proposte potremmo fare anche delle modifiche ovviamente a seconda sempre di quello che è anche il messaggio che vogliamo noi lanciare con il film esatto sei consapevole di essere il clone più bellino di Steve Buscemi Steve guarda l'ho già detto una volta se avessi anche solo l'1% del suo talento artistico sarei l'uomo più felice del mondo quindi solo assomigliarli non mi basta anche se sono più bellino forse più bellino però ha sottolineato e quindi non esaltarti troppo riuscire a fare un monologo come quello che ha fatto all'inizio delle Iene faremo la diretta con Steven Renzo e Steve Buscemi li mettiamo uno accanto all'altro devi dire un vestito a uno sbaznegar così per dire va bene aspetta aspetta questa qua questa è bellissima gigantografia in miniera per fortuna Walter non hai specificato che si è all'ingresso della miniera oppure verso la fine lad esatto esatto prometti magari sai dove in un punto buio che la gente passa lo vedete oh che cavolo è sta cosa è bello che lui ci pensava già di andare a mangiare invece continuare a fare domande esatto voleva andare a mangiare il tofu no no stasera ce n'è del tempo finché non ci butta fuori StreamYard che non ci butta fuori mai è che dopo il download sarà più corposo poi sì Luca The Carpenter è quello che abbiamo fatto a Dossena sì Luca è quello che abbiamo fatto a Dossena e Ambrose quando farete un film e guarda un film su Sherlock Holmes magari magari Ambrose di sicuro ti chiamiamo per farci da consulente quindi non ti preoccupare Ambrose ha scritto anche dei libri e da se non erro la Ciranno Comics ha tratto anche dei fumetti dai suoi testi e i suoi studi su Sherlock Holmes e quindi è veramente una figura di come si può dire di riferimento per l'argomento quindi se un giorno dovremmo mai fare un film sicuramente andiamo da Ambrose e di Verona sicuramente vabbè quindi vabbè io prendo la mia sballomobile e per le strade di campagna arriverò perché tanto non c'è l'elicottero quello che dice Pietro che mi segue esatto che no posso prendere quelle coperte che le ho viste su dov'è su Facebook o Instagram in questi giorni mi arriva di tutto le coperte quelle che diventi invisibile no la metto sulla macchina e dall'alto non mi si vede col mantello di invisibilità di Harry Potter coperte che diventi invisibile ma cos'è Harry Potter ti giro il link puoi comprarla arriva dalla Cina direttamente col covid 21 è inserito in un sacchettino se vuoi aprirlo perché il messaggio è comprala e ti farà sparire puff eh beh sì basta io con questa taglio tutto e no questa qua Gian e poi e poi finiamo la dirata con questo domandone la mia faccia dice tutto no eh la mia faccia dice tutto no e sono uscito vegano esatto è felicissimo eh perché è l'età di questo periodo e che non possiamo andare sul set a proposito il Gian è uno sceneggiatore con cui stiamo collaborando e Michele Zampieri che è il suo collaboratore con la Jack in the Box è una realtà che si sta facendo con noi per i nostri prossimi progetti quindi ecco dico avranno tanto da dire anche loro con la Closure quindi preparatevi esatto del tipo che non siamo mai fermi come dicevamo prima continuiamo a muoverci nella cerca di collaborazioni e gente nuova e io dovrò conoscere Ambrose perché dice che mi batte è una colazione di 89 album di foto d'epoca fine 800 quindi io devo vederle perché quelle cose lì mi affascinano un sacco e vengo a Verona quando arrivo a Verona Steven portami d'Ambrose va bene e c'è uno che mi sa che hai riferito a te però Lucio perché ma te dico no io ho la fortuna che stacco alle 5 5 e un quarto e dopo per non dover uscire così mi dal inizio gennaio ho detto beh facciamo due chiacchiere in compagnia rompendo le scatole a tutti quelli che conosco ma tutti eh però oggi mi è arrivato un no come ti accennavo prima da lo anticipo dico dai no dai non anche devi dirlo com'è presente dopo se la prendono con me esatto è culpa di Steven lo so io mi prego rimane Pietro dai colpa di Steven colpa di Steven aspetta colpa sua no sto veramente chiedendo a tutti gli amici e conoscenti perché mi sono posto l'obiettivo di fare 365 dirette e so che è una cosa abbastanza pesante non tanto da fare la diretta quanto da organizzare perché non tutti ti dicono di sì e allora per adesso ho tutta la settimana questa metà della prossima già occupata però bisogna riuscire a incastrare tutto ci saranno anche delle donne e perché mi hanno chiesto proprio ma tu farai fai solo dirette con uomini ho detto no però le donne non mi dicono di sì quindi chat attenzione che potrebbe arrivarvi un messaggio da Lucio esatto esatto quindi tenetevi pronti e pronti a rispondere sì Steven e Pietro vi ringrazio lasciate solo i vostri link verbalmente adesso poi li mettiamo dopo dove siete raggiungibili e poi chiudiamo la diretta a quasi un'ora dall'inizio cavolo beh a me mi trovate su Facebook come Steven Renso proprio scritto così su Instagram al momento non mi trovate perché sto facendo un change di quello che è la mia visione dal punto di vista social dato che appunto questo anno mi ha cambiato molto e quindi su Instagram al momento non ci sono ma mi troverete a breve ecco con una nuova facciata oppure potete andare a cercare il sito stevenrenso.com o ancora meglio closure.com esatto adesso il sito della closure se no Facebook Instagram quelli almeno i miei e Pietro lo trovate anche su Instagram ma anche no mi trovate anche su YouTube però ecco al momento video strano quindi googleate Steven Renso e lo trovate dappertutto va bene volevo solo dire l'ultima cosa io sono davvero vegano che dopo non arriva qualche vegano e dice guarda quel bastardo che continua a dire sui vegani sono vegano io mangio il tofu ragazzi me lo faccio io il tofu quello che dice sui vegani sono io non lui io posso confermare perché ho mangiato cibo vegano e bevuto il caffè di non so che cosa e guardate adesso come va in giro era buono il caffè non mi ricordo però sono diventato così una volta non avevo la barba e dopo aver bevuto il caffè di Steven mi è cresciuta mi è sicuro la barba esatto no perché adesso ho il nodo in realtà è così ma no quanto lunga è ogni volta ogni volta è sempre più lunga grazie ancora e buona serata e grazie a tutti quelli che hanno ci hanno guardato fino a questo momento e tutti quelli che guarderanno la diretta in registrata su youtube da domani grazie a te Lucio ciao 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 a tutti anche voi ragazzi ciao ciao ciao